Ciao ragazzi Ehi Luna no Basta Mi mai Cacca Adesso dà il gas Tu eri un bambino Non in Dio Tu eri un bambino Dio 2 2 2 2 3 5 4 5 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 6 6 8 9 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 12 12 11 12 12 15 15 15 Anche avvia la riscossa Ma non abbiamo più amici idonio No ci sarebbe un amico idonio Basta far venire Manu a fare qualche partita Manu me lo dà idonio E ci prendiamo la skin Nera e rossa Le sciabole Nere e rosse con l'occhio E poi cadute fa cagare Quindi no Eh c'è bella roba Se mi rispondessero Io invito in base Adri Ma qua non mi risponde nessuno Cioè faccio lo invito Adri C'è periodo di partita Sì sì Tanto mi sa che non vengono Non mi risponde neanche più al telefono Ma che dà anche a Manu Per gli incarichi Manu gli scrivo ci servi Ma non vi è No perché la stiamo schifando Su quell'altro gioco Io non ci sto più giocando Poverino se lo deve subire tutto capi Loro sono su Eldivers Sì sì capito Vediamo se L'altro vecchiaccio viene Da quanti giorni è che è qua La skin di Lady Gaga E te la becchi fino alla fine season Minchia Fino alla fine season rimane lì C'è quella della crew Che a me piace tanto Qu'è quella della crew Dove cavole fin qua Mi piace tanto Dovrei pagare Dargli 11 euro E mi prendo il personaggio Solo che poi non so Come si disdice Eh devi chiederlo a cosa Cioè più che altro Svario ce l'ha sempre attivo Anche se non gioca È pazzo Svario è pazzo Sì sì lo so La domanda è Ce l'hai per il mese no? Cosa? La cosa? La crew? Sono 11 euro al mese Bonus singolo di 950 Perché non hai ricevuto il pass battaglia tramite la crew Che cosa? Perché te lo sei comprato? No no Allora termino abbonamento Come fai a vederlo? Sei andato sulla crew Ah vai lì quando Informazioni C'è tutto il coso Che ti dice I benefici Pass battaglia E poi Ah perché io Il pass battaglia Me ne ridai indietro Perché Crew di Fortant E' offerta in abbonamento In abbonamento In abbonamento In abbonamento In abbonamento In abbonamento Allora Allora Dove cavolo è per il mio? Prima della data di... come si fa? Mi sa che devi... O quando ti abboni te lo dà qui o devi andare poi sul sito loro Udete ne facciamo una noi Se l'hai presa manco mi risponde più al telefono Perché io ho scritto che stasera volevo giocare qua Perché sai io l'idea era di andare su Dragon's Dogma e iniziarlo stasera No ma anche questa cosa qui adesso io finché non lo trovo un po' più basso non lo compro Su console è difficile Ma sai bene che su console è difficile Ah non so Anzi più che altro volevo comprare Starfield Guardalo qua che parlavamo della crew Girati c'è dietro E dietro lo vedi così Perché tu vedi il personaggio da dietro vieni qua No dai fatti vedere dietro Ho visto ho visto Bello però Ci sta Allora sono vabbè 11 euro skin e 1000 V-Bucks non è male Lei che dice Lei non fa bill Io Cioè la farei solo per la skin Eh la skin mi piace tanto Mi piace veramente tanto Allora sono andato anche a te o mare Quasi 40 minuti di viaggio Da dove sono io a Sul posto E vabbè morale della favola Sono Arrivato a casa tardi Mangiato tardi Poi devo anche Benvenuto Eh Adesso arrivo a casa Le 10 meno un quarto Eh devo prepararmi da mangiare Devo prepararmi da tutti gli orari dell'estrime Che fare Che fare Adesso qualcosa Più che altro Adesso lo stavo valutando Di prendermi o un monitor O una tv Perché di l'alerica Sce un po' Non dico arrabbiata Però dice Oh caspita In camera da letto Non c'è un letto Non c'è Un Una tv E che cazzo La vuole E allora Ho detto Oh adesso guardo un attimo Tra un attimo Un altro Se conviene Prendere una tv Oh Cos'è sta roba d'oro? La via dell'acqua Ah Quello degli avatar Guarda Sì 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 Ho visto Ho visto No Vabbè È infinito Sì Vabbè Abbiamo già capito Che domani lo nerfano Domani la nerfano sta roba Te lo dico già Scrivitelo Perché l'hanno messo infinito Vieni qua L'hanno messo veramente infinito Facciamo cambio che ho preso solo la mitraglietta io Te la lascio perché ne avevo due Io ho preso solo la mitraglietta e te la lascio anche tutto Ma questa cosa qua? Tanti anni fa Ciao Scioglie Adesso vediamo i suoi nemici Ah se scioglie Adesso devo provarlo Venga con me Che se non l'hanno preso qua avanti c'è un bottone I miei nemici davanti a me Devo provarlo Mi scusi anche se muoio Devo andarla a provare Ah non ci arriva fino a là Vai da vicino Allora ti sciolgono Faccio merda Faccio merda Se vuoi la via dell'acqua Anche tu 100 Ti ho visto Ti ho visto Fa 44 No mica il cazzo l'ho sciolto 50 ho sparato anch'io Ah ok Stavo dicendo Che cazzo Due colpi l'ho sciolto Questa vabbè la clip dopo Si mette su Subito Che l'abbiamo ucciso C'è cosa bisogna vedere Dimmi Mi dica Andare nell'acqua Col potere dell'acqua Che poi Rattascai Le ghiaccio Però Si perché lo condensa Come lo mi dita Eh No Non fa niente Non c'è niente C'è il bot Lo prendo E comunque sappi Che sto giocando a pc Ormai Ah c'ho un altro mondo Mi fanno solo male le dita Perché ci devo abituare Però è veramente Un altro mondo Ci puoi sempre giaccare Con control Mi No Mi fanno male Le mani La mano sinistra Per il te Devo schiacciare V Wast Bravo Per correre Il maiuscolo E control Per abbassarsi È un macello Ah lo so Però è il miglior comando Attuale Rispetto a un analogico No Più che altro Sei più veloce Nei movimenti Quello lo vedo Tanto Come avere Le freccette direzionali Però che invece Delle freccette C'hai Le scritte Wast No ma non è tanto È il mignolo Che mi fa male Perché il mignolo Devo schiacciare C'è il control Il maiuscolo E quello è il problema Il mignolo Sì Puede avere la sua posizione Dovrei cambiarlo Con Con un tasto di fianco A WSD Che così almeno Io faccio Le gran fatiche Guarda Che sound Sto in macchina Solo per il sound È molto rilassante Adesso si è dormita No 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 Ce li facciamo Non si boom Guardai Sì sì Ho anche parcheggiato Buone Cosa vuoi Di più Lei Guarda che Apri Ce l'ho già La testa Vado a riprendermi I medikit L'ho aperta Si è detta così Qui vende anche L'arma leggendaria Ah ma lei Ha una corona Eh sì Cos'è come ti l'ho vinta Guarda che il bunker L'ho aperto C'è un pompa di oro Oro sì Quanto ne vuoi Perché sei a corsa di oro No no L'ho comprato Lo vuoi un pompo? Un bombo? Adesso vengo giù E vedo Ah ma ecco perché mi stava rompendo Non ho bloccato il tab E dov'è che ce l'ho giù? Eh dietro di me Scenda pure Ah ecco Uh ma c'è il posto della via dell'acqua No il posto dei medikit Così a tutte Devo provarla sta cazzo di via dell'acqua Non c'è no Oh col visire Col visire Col visire Termico Ragazzi mi è partita la dislessia Adesso siamo in diretta Giusto? Si Bene Spari Oh prova a scrivergli un messaggio A chi? A chi? In giaia vino A Dandre Nooo A Dandre Se se l'è presa Perché siamo qua Cosa c'è Lunina? Dove sono? Ah visti Anche là Minchia arriva fin qua Osho Arriva fin qua La La gettata Io devo scappare Eh Eh non ho più vita Amore Ho voluto farmi una crit video E sono riuscito A posto Ah in acqua Riprendi anche vita Con la cosa dell'acqua Ma che figata Ecco cosa serve In acqua Vede che sta riprendendo vita Il signor Ah si si È da tenere dietro Allora sto coso Perché così in acqua Riprendi via Si magari È troppo OP Hanno fatto troppo sbroccato I casi sono due O Diminuiscono il danno O tolgono Che riprendi vita No no Riprendi vita Va bene O No è troppo sbroccato Metti che sei all'ultimo E tu sei in acqua Non muori mai No no Muori tu Cioè dopo un po' Hai visto 135 Vado a farmi un'altra Creep video Se riesco Non abbiamo scudi Porca troia E comunque ti stavo dicendo Il monitor Mi piacerebbe Averlo con lo schermo Haded Fatto da qui Ah 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 Bravissimo Oh Bella Te l'ho detto che OP Davanti ancora Eh Fail Dammi un secondo Eh more Ah Addirittura Oh Ti tratto bene Cosa vuoi Vieni qua Qua un'altra Venga da me Noi sono quasi a posto Vediamo se qua dentro ci sta qualcosa Vieni qua no Non c'è una sega Posso berlo io che ne ho di meno? Vai vai Sono notti troppo Eh ormai sto a bere Comunque te l'ho detto è sbroccato Devono metterlo a posto Oh in due li sciogliamo Anche perché il primo colpo mi fa 50 Poi passa a 130 E l'ultimo ma ho visto un 200 dorato Per quello ti dico è troppo forte Che sta roba viola No la mitraglietta quell'altra Qua una mitraglietta viola amore mio Vieni qua No non lo prendi Mica Lasci roba viola Va bene Allora ce l'hai dorata Ah no C'ho il pompa viola Da vicino C'ho il 2000 dell'acqua E un assalto dorato Mancano 9 Che cazzo Calma calma 8 Eh hanno ucciso un altro qua i signori davanti a noi Sono sull'isola Ci arriva una cecchinata che ce la ricordiamo per tutta la vita Scivola ogni tanto che c'è l'incarico Io ne ho già fatti due Cos'è che dice arrampica tu? Arrampica e scivola Io e te non abbiamo corone vero no? Io? Eh scusami Eh sono rincoglionito stasera Medaglioni No no non ce ne abbiamo No Faccio come stamattina Con Marco Facciamo il giro di qui Tutti abbassati eh Poi guardo lui aveva la cosa Ma va affanculo Ecco perché ci hanno visto Mi ero dimenticato Io Pirla Mi ero dimenticato che ce l'aveva Eh va bene Dobbiamo andare Eh sì sì Sette Spari Andiamo 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 Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Sei sopra di me, amore? No Ci siamo divisi, cazzo Eh, avresti ragione Davanti a te, davanti ai distributori di benzina Cazzo, mi hanno preso Eh, anche a me Non mi vai Saremo sposto lì, cazzo Bravissimo Tanto sto giocando È dietro di te No, era un secondo Non fai niente Cioè, se è un secondo Non fai niente Hai fatto i miracoli Io intanto giocavo col cane Intanto che ti guardavo Andiamo in live, please In live Oh, stasera non ce la faccio In lobby Stasera sono distrutto Va bene Stavo giocando pure col cane Mentre guardavo te Allora, mi ha dato la cosa di Cora Che adesso gliela mando subito ad Andre Sì Sì Non so se io scrivo Quando c'hai una squadra potente Ho, ho, ho Ho, ho tog Ho, ho Ho Ah durante il giorno Cosa? No lì Arrampiatissi avanti uscivolo durante il giorno Io e Marco stiamo giocando a Lego Fortnite Scusa Pietro non volevo pensierartela dopo Ma Dadri? Vabbè Morca Siamo Se si vuole far vivo si fa sentire No guarda Vai nella pagina di Cora Guarda quella quando vieni giù Che ti lanci dal pullman Che figata La seconda dopo la immagine di copertina Ah che c'hai quattro elementi Fuoco e acqua Fuoco e acqua Terra e vento Ah terra non l'avevo vista Ho visto peggiorare Ho finito Artemide Si inizia la pagina di Ade Anche sto pass va a casa Ma c'è un'Ela da Pietro Comunque non male con me che gioco da tastiera da poco Arrivare secondi Perché non facili Ho finito No perché Sei già arrivato prima diverse volte Ecco Con la tastiera no Giocavo sempre da mouse Eh vaffanculo Da joystick Ottieni o spendi i lingotti Va bene Mi sono anche a guardare le altre Pietro Ciao Pietroni Ah ma va anche scritto Vado un attimo al bagno E ci sono Non l'avevo vista Due ore fa Un attimo al bagno Scelga lei eh Ingegniere No no io non scendo No no io non scendo niente andiamo a prenderci il preferito di Adri quando si parla di quella online? no 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 sono qui cose che comunque quindi la tua ragazza vuole si parlava di prima della tv la vuole in camera così quando avessi bisogno di fare cose zoze guarda la tv no cioè lei dice hai comprato una scrivania è meglio un monitor che almeno puoi hai lo spazio lì davanti altrimenti compri un televisore un altro in full hd e l'attacco al muro bravo questa fa un muro bravo se la tua donna vuole la tv perché se poi prendi un monitor comunque lei non può guardare niente sei sempre più no ma io ti parlo no 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 non hai capito torniamo è arrivato uno strunz vabbè intanto spengo spendo i soldi no ma in ogni caso un monitor o una tv la devo comprare lo stesso si quello si però se la tua ragazza vuole guardarti qualcosa si ma non la mando se la vuole guardare c'è il salotto c'è la camera da letto la stanza che l'ho messo la tv c'è l'xbox c'è tutti i paciari con cui ci gioco c'è il mio salottino da gaming chiamiamolo così si 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 la mia è questa che ho sempre detto su sta cosa allora se tu sei uno che gioca a code e basta o all'fp si valora ma tu non hai sentito il discorso dall'inizio però che praticamente la sua ragazza vorrebbe una tv in camera per quello ti ho detto allora devi comprare quella ah se la vuole in camera è nato discorso io pensavo che se lui doveva scegliere tra fosse pc o cioè monitor o tv per quello ti ho detto ho fermato no perché se deve scegliere lui dipende ah no ce l'ho io si i soldi sono miei no nel senso se ti interessa che gliela vuoi anche far vedere in camera fai la tv e vaffanculo però il discorso era diverso se tu giochi ma non mi pare solo a code o fps la meglio cosa è il monitor perché è un altro cioè più piccolo è il monitor più piccolo è meglio giochi agli fps di solito è così si massimo è certo però se tu giochi agli open world pure o a qualsiasi tipo di gioco giocarlo con televisore da 40 e passa pollici è un'altra cosa ti do ragione lo confermo dicendo quando hai visto a camera ma infatti fortuna ce lo sta giocando sul monitor è questo io dico questo stavi a db direlo quando era uscito da poco elder ring io giocavo dal monitor era un modo però quando c'era l'offerta mi ricordo posso fare tipo le ex promo posso dirle sì sì ok al media world c'era la promo di questo lg che era lg oled con vabbè a 42 pollici eh insomma l'ho preso io ho attaccato elder ring e ho detto che è il migliore a fare no ma io per meglio open world ma qualsiasi altro gioco che non sia in fps è giocato su una tv grande è tutta un'altra cosa c'è la bellezza che ce l'hai è tutta un'altra cosa ciao che poi visto hanno fatto l'ultima comparazione e addirittura tutti che stanno a dire dell'LCD cioè che la telecronologia vecchia risulta ancora migliore di questa nuova mo non me lo devo andare legge bene che me l'ha passato un amico mio che è fissato queste cose far scegliete un posto però me la devo legge bene io sono un attimo un bar ah ma ricazzo te la corona e beh sti cazzo come lo sai che a me mi fai un cazzo sti cazzo però più che altro andiamo più lontano perché Pyrex scenderà in culonia e non scenderla prendo il bot e ti raggiungo tu vai e mutati e mutati eeeh se sta super scherpisello nooo ma leva il volume dell'altri devi mettere solo il volume tuo la voce tua devi mettere non la devi tenere quello che dicono tutti devono sapere quello che faccio io va bene ragazzi adesso lo dico ho fatto la pipì voi non la fate scrivetemi con me io non voglio che la mia voce vada in giro sennò poi ci fanno i deepfake nooo da me ancora no ti fanno ti fanno l'edizione nuova e usa la tua voce come al posto di si fanno su un meme sulla voce di adri non posso neanche fare le battite di bombolo in live porca pucca gli insulti a mano fanno con la mia voce ah se vuoi te ne creo io che c'ho il bombolone se vuoi te lo metto a riposizione non è un problema cazzo non è rapido ho visto uno che veniva eh quello che è venuto era il bot pyrex sta a casa di dio dai se lo andiamo a pigliare dai vieni in macchina aspetta che non c'ho manco un assalto ma si andiamo senza niente andiamo subito a perdere la corona dai dai piglia un paio di armi non te ne fregiamo un cazzo passi no a parte gli scherzi passi davvero uno a terra bianco l'altro mi trita vai bravissimo c'è Simo che deve essere il compagno la tipa che c'è un assalto si e Simo vieni qua c'è gli splash sparate lì a voi arriva 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 non lo vedo eh mi sa stasso solo la montagna può essere si no eccolo sa che occhio fatto sto arrivando puoi venire tranquillo ormai il pericolo è passato sto attraverso sto attraverso sei meritato no eh vabbè quello col mirino verde comunque ho deciso cosa mi attacco il televisore al muro e di là compro un televisore normale 4k un buono non so io che sto a Fabi allora sto attaccando il braccio al muro il prezzo proprio e aspetta ho trovato ok e con il mob cioè poi metto il televisore centrato in il mobile però dato che io gioco sempre dal letto poi metto il braccio che mi si mette tipo in orizzontale e mi si mette davanti al al letto bello già l'ho trovato perché così quando non gioco sta centrato nel mobile che devo ancora comprare perché ho cambiato la sistemazione della stanza vabbè e e poi quando gioco tiro il braccio anzi se cosa potrei fare potrei fare un altro tipo di investimento i barili arrivo dato che di sotto c'è un televisore pyrex vieni qua neocul sempre della lg che ha una risoluzione simera al oled ma non è proprio oled che infatti è la generazione con la scarsa che mi dicevi te perché è ancora più a risparmio energetico però chi è questo? scusami dominio dell'acqua ah prendilo è fortissimo e poi tienilo perché quando sei in acqua ti cura anche sono le cose di avatar ma si attacco? posso attaccare? eh sì cazzo c'ho io hai le munizioni infinite spari 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 a me sto sotto 116 a uno 116 all'altro una a terra l'altro pure mazza bella sta qua bravi ragazzi mi piace così è bianco o blu questo? oh blu solo che non si vede più il nostro amico eccolo eccolo spari dietro arrivo qua hai visto è qua no levo al ping io vado un po' più a destra sparate sparate non lo vedo più non lo vedo più immediati subinari è bianco è nato giù a sinistra in acqua bravo bravo con cui è nato dalla parte sempre passata dove stavo in acqua mi curo si ti curi la salute lo scudo no l'assoluto è su cosa hanno fatto il si è sbroccato il divino della si ma è troppo sbroccata vedrai che uno due giorni pensa che facevano che quelle due ti paravi tipo facciamo scudo d'altro eh ciao già è realtà così quanto arriva lontano tanto una cifra perché gli sono cercato fino a 200 metri no vabbè ma questa cosa non fa così non può essere 93 preso 149 fatto minchia che cecchinata signori madonna come l'ho sciotto due colpi gli hai dato l'ultimo colpo l'hai buttato a terra 60 149 con due colpi se lo so minchia mi hai dato una cecchinata che questo se la ricorda la vinci qua 22 80 bianco quella a sinistra va a te ma mi è fortissimo esagerato sto cosa rega proletto goditelo perché lo nerfano amore dietro ce ne avevi in alto prenditi il cecchino viola ce l'ho ce l'ho l'ho preso blu ce l'ho perché non c'è il mirino c'è il mirino quello brutto quello quadrato ecco vabbè glielo metti non c'è il mirino non c'è il mirino che è il mirino quello la è il mirino è il mirino è il mirino beccato pieno pieno mi ho fatto 290 che squadra adri che comanda e noi dietro non c'è il mirino non so come da per niente oh portacci di pippo parec 9 9 di proprio i miei fulmini ci devo stare ah coi fulmini ci abbiamo visto una partita io e te ho due assalti il fulmine l'acqua e il cecchino signor pippo pirex quello quello oro c'è un altro dominio dell'acqua se volete adesso lo piglio io lo sappia io piglio pirellino è uno dei due tanto adesso buttiamo giù il forziere spara uno signor pirex vai scolto 198 ma perchè spari stai solo stai vicino a me che adesso ti splash che splash che splash insieme al botto che ce l'hai te prendi della tigre non se puede ce l'abbiamo già aspetta 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 adesso state lì state lì che lo faccio io ma mentre riesce l'abbiamo già ragazzi perché mi ha detto che era già in corso vai adesso è morta brava ci sto io ce l'abbiamo di qua dietro dietro aspettate il cecchino viola con il mirino questo giro si è inchietato tutto eccolo si stava solo? sembra di si passi eccolo no non è solo bambi si era solo era ammazza era lui che lo vedevo da due parti ok taglia fatta isola isola 400 vogliamo girare la safe qua da sta parte vamos fammi vedere solo cosa vende guarda che c'era che si ho messo bene no pompa sono a posto sta sta parte girata in merita non mi piace qua come gira la safe perché gira tutta in acqua per te è ottimo tu pigli vita vogliamo girare dall'altra parte dalla parte opposta giriamo dalla parte opposta no te decidi andare in qua si da dove venivamo lì circa chi è? perché se no lì se dobbiamo passare per strada passiamo proprio sotto l'isola se dobbiamo passare di qua diciamo non mi piace invece giriamo di qua vediamo vediamo com'è si rimuove la safe quanti player 13 5 squadre no di lì non sali di lì non sali ok ok Sul treno... nessuno... Tu cosa vendevi tesoro? Fami a vedere... Ma parliamoci, va? Mitragliata viola, ce l'ho già. Dove li amo con lei? No, non ti dà niente, poi l'ammazzi. Lascia la lì, poverino. Lascia la lì, poverino. Oh, siamo un pelo fuori, sei. Qui c'è un... pompa blu. No, viola. Andiamo giù qua. Oh, che era in gira, comunque la dobbiamo continuare di qua, perché sennò andiamo in faccia alla isola. Adesso vediamo. Eh, di qua sto oggi, infatti. Ci stiamo. Dopo scrivo quelle di Epic Games, se possono fare personaggio di bombola. C'è un attacco speciale, quando salta scorreggio. Salta ai collari. No, no. Quando schiaccia i... quando distruggi i muri fa square, square. e da un pò. Che ti piace? Ah, beh, di sto sotto wo. Lì ci stanno.... Braunrón... A questi bot... ...no sesso risparano. Ma, dai, ti ricordi quello dello squad, squad. Qual è? Adesso non c'ho più. sono le dici tu che c'è la straniera che va avanti che fa ma è schiuma da bardo ma che non mi ricordo e che vuol dire la descrizione che marino in live meso attivo qua macchina davanti a noi qua qua altra gente madonna che ho buccato la gomma altro colpo un altro colpo 50 50 in realtà ci sono stati più a puntata che c'è chi nasce che va un altro colpo lo tira su così butta i fulmini sulla casa eh sto più dietro dimmelo che pusci perché non parli cristo iddio ma andiamo andiamo tu sta sta nel libro fingato dentro la casa per questo ha detto da anche fulmini a di nuovo a terra una terra gliel'ho confermato sopra un'altra terra manca uno ragazzi guarda l'ho confido fatto prendetevi la poroncina io mi devo curare oh 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 cecchinato dall'isola cecchinato no mi servono quelle cazzo di cure cura mi stronza no dall'isola è impossibile è arrivata verso dall'isola si ancora dall'isola l'isola non è fuori safe oh quello dell'acqua dobbiamo correre mancano cinque stavano sopra la casa quindi si sono buttati allora io a ricordato ho detto tira i fulmini da lì dove? no prima uno vola ce l'abbiamo provato preso io che sono dopo la collina si stanno in sei io ne ho visto uno qui vicino a me eccolo ho più brassini a destra 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 provo a guardarci tu non rianimi cazzo guardo guardo terra quello prima questa a sinistra non lo vedo più quello che sta vi assegnare seguite quello non l'hai ucciso no è scappato quello che avete il piccione di prima l'ha ucciso cioè l'abbiamo ucciso adesso ma quello che era andato qui dove sto io si si esatto ok siamo tre contro due no siamo tre contro uno stiamo attaccati così non ci può uccidere insieme a meno che non c'è su un libro cerchiamo di sta abbastanza vicino e cura stronza vieni qua la safe lì si muove qualcuno corre via dalla safe no perciò già sta dentro eccolo è l'attuto di spider bravissimi bravi bella vittoria bravi bravi mi è piaciuto bella stacqua esagerata io stavo laggiù colpo io ho sparato l'ho tirato e andiamo a sette corone signori quanti kill avete fatto rega voglio sapere con le totali 7 io ho tre eliminazioni e tre assi alla tre significa 16 di squadra dai buono io sei simone 7 buonissimo preparati io solo due due di filo con la corone hai solo due corone ma scusa non ho giocato si si ma vedi più eri più o meno come me dai che invitiamo Manu a giocare forte acido ed ecco che mi parte Dragus Dogma comunque ho visto ah torna dai perché non ha trovato la partita ho visto Dragun Dogma 2 su console ma è bello l'unica per il fatto di 30 però alla fine si vede bene calcola che io abbiamo giocato a Starfield 30 FPS eh ma il problema di Dragun Dogma non è i 30 FPS è il fatto che ti ballano in una maniera assurda cioè in città su console arriva a 15 capisci? allora il minimo e il massimo su serie X è 25 cioè il punto più basso è 25 il punto più alto è 40 eh ma io ho visto anche in città su Xbox è arrivata addirittura a 15 nella capitale però per un attimo però pure se tu balli dai 35 ai 25 ogni volta ai 20 cioè è quella la cosa se fossero stabili come Starfield sti cauli capito? il problema è lo lo sbalzo cioè poi dipende te quanto ne soffri cioè per dire io per esempio lo soffro tantissimo il lag o anche gli FPS è da fastidio io mi sto trovando da dio proprio a giocarlo su GeForce ma proprio da paura c'è tutto tutto su ultra e va a 80 FPS è pieno di gente ragazzi pieno con un uomo dove scendiamo? d'Artemide o? eh andiamo d'Artemide eh ormai no ho pensato sulla casa sto fai stavamo parlando non ti ho fatto neanche caso che era pieno niente non c'ho un arco peggio gente e io non ho ora ma te mi depresa cazzo cazzo ti pare che non si entra qua non c'è credo due hanno una buona due c'è Kimi poi mi mette da un'altra è verità si toto non c'è tanto gente che gioco Ah, fa un culo, Peeper. Eh, io sono morto come una stranza. Io uno l'ho terrato, uno l'ho fatto. Sto arrivando da te. Cazzo, questo è sotto di me. Sono io qua con te. Eccolo, uno sta salito da te. A te, Emile. Dai, Simo, ce l'hai. Dai che era bianco. Mi ha fatto arrivare dal compagno. Non so da dove mi hanno fatto. Non lo so proprio. Da dietro, eh, da dietro. Siamo scesi a cazzo di cane. Stavamo parlando. Abbiamo potuto venire a cuore, no? Comunque mi sta piacendo proprio tanto, tanto. Era proprio il gioco che, che aspettavo da Elder Ring. Che mi faceva fare quello che cazzo mi pare. Beh, adesso poi quando parte il DLC, tanta roba. Sì, sì. Però, beh, nel senso che volevo proprio un gioco che mi faceva, cioè... Per fare la missione quella di... Una missione della Batessa. Ci ho messo una vita a farla. Oppure pure bella quella... Da ragazzino che di andare a salvare. Devi capire proprio dove cazzo sta. E devi proprio seguire il ragionamento. Perché mica te lo dice. Cioè il ping tu non ce l'hai per niente. C'ho due cose. O perdi il tempo a cercarlo e poi c'hai il tempo della missione che neanche sai quant'è. Sì, sì, sì. Perché se ci metti troppo, more. Però non lo sai. Non è che dici tre giorni e venti minuti. Cioè, non lo sai. Ah, devi far subito. Sì, però può capitare che ce n'hai tre o quattro dopo a tempo, capito? Perciò... Dei comunque dati una priorità. Su quale vuoi. Non vado a me ne dico dai. No, nel senso che secondo quale hai preso te la vai a fare. Se devi leggere bene la descrizione della missione che te lo dice. Perché, che ne so, c'hai quella a tempo che ti dice cerca tizio. Oppure c'hai... Il tizio è assalito dai lupi. Valla a salva... Alla, vai a quello dei lupi, per dire, no? Sì, sì, sì. A seconda di quello che tu leggi e fai. Però sono belle proprio... Mi piace proprio. Oppure... La giocabilità all'inizio è un po' strana perché non c'hai lock. Non essendoci lock sui nemici, è un po' difficile fare le mosse sui nemici. Nel senso... No. No, no, no. No, devi mirare... Tu già giocato a... A Monster Hunter? Cioè, mai giocato? Mai provato? Sì, sì. Eh, hai visto Monster Hunter che non c'hai il lock? Diciamo, devi essere proprio te bravo a mirà? Eh? Eh... In lo stesso modo. Capcom lo stesso modo. Ok. Esamino... Forse... Perciò quando fai le mosse devi mirare bene ai nemici, tutte queste cose così. Le classi sono fighe perché sono tutte diverse fatte bene. Eh, la madonna... Sì, però Pyrex non l'abbiamo aspettà, come al solito. Eh, tanto lui va a piccarti su, avranno sta... Nien, 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 nien. Tu non giochi di squadra. Io? Lui gioca da su. No, ma state facendo i vostri discorsi, state amoreggiando, avete preso anche casa insieme, quindi... Vi lascio nella vostra intinta. Qui c'è un piccicchino col mirino, quello... termico. Oh! Già mi stanno a sparare! Sto tornando. Sto tornando. Sto sciolti, c***o, visto? No, l'ultimo solo ho fatto. Visto, li ho uccisi io tutti e due e non mi prendo neanche i meriti. Il terzo l'ha fatto poi, l'ha fatto Adry. Mi fa... eh, va bene, va bene. Lui quando tocca a te... Io non me li merito mai. No, ci sto sette. Perché sono pingate così? Se devo fare un insulto alla Adry, tu non dovresti neanche condividere l'aria con cui sto respirando io. Dove sta? Sopra. No. Ah no, non è sotto. No. Però che figa. Eccola. Tutto. No, la sbanana. Dai, gli dai. Bello, sto cecchino. E che c'è la viola? Stai andando verso la stazione ferrovaria? No, andiamo dietro a fare questo. Almeno sappiamo che siamo vicini. Seguiamolo. Perfetto. Ehhh. Voglio... la dilminazione dell'acqua... L'arrizo sì. Spari! Che è ponte? No Io vado a montagna a destra Io vado a destra Mi scena capi Continuo a non vederli Dietro quest'altra montagnola Qua viste, dietro il masso Non ti fai vedere un attimo Allora io vado a quello lontano 110 Messo a terra 110 Devo ricaricare Braggio Braggio E stava sparando a? A quello che era qua che è morto No, quelli stavano in squadra Quei due stavano sparando a un terzo Tipo quello in direzione Eccolo Preso Bravissimo Bravissimo Mazzola come lo E' chioso Artro che è temide Voglio la dominazione Del dominio Allora Allora Perché andiamo fuori 6 Così Vediamo se qualcuno sta correndo Ma pare che c'è la jump davanti a te Lì non vedo nessuno Eccolo Vai via! Poi non c'è venuto nessuno, pieno di cazzo! Pieno di cazzo! Pieno di cazzo! Adesso Simo lo dovrebbe dire, ma anche... Se ti piace o no, lo invente! Eh sì, mu fai finta di un'astrona! Cioè i passi hanno detto così e poi... Oddio servono i colpi velci... Datemi un po' un caricatore solo del cecchino! Paga! Brigati! No pagami! Dammi questi colpi del cecchino! Adesso ti chiamo Manu a giocare! Ma per me se Andri gli propongono contratto per una streaming di due ore solo con Manu... Pagano pure tanto! Ma perché se facciamo le risate! Eh certo! Attira il grande pubblico! Vuoi mettere loro due insieme? A giocare due ore di fila! Ma... vuoi mettere che? No, no! Spari! Non lo vuoi mettere! È stato io che non mi dava la macchina allora lo sparo! No! Dopo il tuo non ho sentito un altro! Ah! C'è il bunker! C'è stata una strada... Eh! Davanti a noi! Terra! Da! Non lo vedo eh! Dietro a noi! Dietro al coso eh! Si sta spostando a sinistra a destra! Dietro! Dove? Non lo so ho visto solo i colpi! Montagna a sinistra! Vedo! Fatto! E' andata accada! Bravo! Bravissimo! Ok! E questo me lo piglio però E andiamo a vedere cosa c'è giù Qualcuno c'ha una K, regà Sì, ce l'ho Però è verde Verde? Eh, va bene, ti do quell'altro verde Vamo a cambio perché sto Sto assalto, se no Che è? Non lo reggo proprio Vamo a cambiare Perfetto. Mettiamo un po'. Amo così. Andiamo a mettere questo. E siamo apposta. No, ma lo voglio anche giù qua. Gli spurti, eh. Grazie. Non c'è di te. Come gentile. Eh, madonna, ci hanno pushato due medaglio, eh. Adesso sto alzato gli occhi. Arrivo. Se non lo dicevi, non ci dicevo che è un piccola vita. Ma io ho alzato gli occhi, ho visto che stavano arrivando qua. Ecco, i davanti a noi, qua. Visto. Ah no, anche tu, la corona. E sono... Ma ha sciolto. Uno. E' rimasto Goku qui da me. E' rimasto Goku qui da me. E' rimasto Goku qui da me. E' bianco. Dov'è? Non lo vedo più. Dai, bot. Bravo, bot. Tu. Avevano anche i medaglioni quelli belli. Sono tutti gli biohadri, figlia degli ulti. Ci ha salvato il scuro. E' rimasto tutto a due, eh. Uno ti dà la velocità e l'altro amplifica il potere delle armi. Non avevo la corona. Questo è oro, regà. Beh no, dai, io metto il cecchino e il cosmo, il mirino. Il mirino. Io lo vado a mettere subito. Cazzo, c'ho l'assalto. Oro di merda. Quell'altro. Ah, su quello rompe cambia proprio un cazzo. No, perché l'ha preso dal dio. Sì. Carico. Me lo dai a me che ti do una cappa viola? Tieni. Dov'è? Ok. Tutto buildato? Sì, sì, si può buildare. No, tolgo il mirino e lo metto a quest'altro. Allora... Allora, il mirino lo mettiamo a quell'altro verde. Ok. Sì, questo era l'assalto di Agas. Eh, a me non piace, purtroppo. Non mi piace proprio quel tipo di assalto. Smira troppo. C'ha la rosa dei colpi che si ha troppo. Invece la cappa è più precisa. Mmh. Ha una cadenza più bassa, ma... Entrano più colpi. L'abbiamo fatto proprio con Simo, la prova. Entrano proprio un terzo dei colpi. Perciò uccidi prima con la cappa che con quello. Non li vedo, non li vedo, non li vedo. Quanti siamo? 12. 5 squadre. Sento... Perché mi vedono i passi da sinistro? Oh. Davanti a noi. Eccoli. In alto. È morto, eccolo qua. Una a terra. Quello non è morto. Non si vede più. Cazzo. Occhio che può essere che quelli a cui sparavano non sono morti, eh. Mmh. Dopo ce l'abbiamo sia davanti che a destra, occhio. Ah! Sopra! Sopra! È pieno, stanno a scende. Ci diamogli il bot, è già che sta bloccando. C'è Kino! Giù la testa. Attenzione, a sinistra. Di qua. Il bot è morto. C'è sì. È cura, Kmi. Casa distrutta. Guarda che non mi cura. Figlia? Ah, grande. Non l'avevo vista. Dov'è? Uno sta sempre qua, eh. Dov'è? Un bel pochetto. Un bel pochetto la capoccia. Uh. Dovremmo andare di là, alla 6. Passiamo per di qua Tanto loro devono volare No, ma ho preso anche lo cazzo L'ho preso insieme Va, va, io direi di correre, sì C'è la macchina Non capisco perché Il cecchino fa casino Tu monta, sì, ma l'urma sta a correre No, no, c'è l'infettore, glielo ho messo No, da Vai, mod No No, vabbè, mod No, ho preso lo spigo Vabbè Ma ormai corri, sinistra Scendo, eh Prendiamoci sta collinetta, regà Questa Lo sta fermo Quasi, cazzo Qui stiamo in safe, dietro sta roccetta No Uccidiamoglielo quello, ma ho preso 72 preso Cazzo Eh, sono messo male male Me l'ho ucciso Confermato Minta, non l'ho visto, credi tanto a me Qua Sto ancora? Mi hai fatto una cagata io Preso, preso No, mi stanno qua, mi stanno qua Dov'è, dov'è? Eh, da dietro, da dove sto io Eh, porco dinci No Ho fatto due cerchinate insieme Ma la madonna, guarda questo Sì, ha fatto due colpi Due cerchinate, regà Sì Vabbè Ah, quindi andiamo in lobby Sì, sì Sì, io vado su Dragon Ciao, bello Ciao, ciao a tutti Ciao Mambo Ciao, ciao Che lasciamo Eh, sarà mezzanotte Eh, mezzanotte Eh, ragazzi, sono cotte Ciao 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 Ciao, ragazzi Buonanotte Allora